Grazie Presidente. Il 22 settembre ricevo una mail abbastanza curiosa con una segnalazione, ve la leggo molto brevemente. Vi segnalo quanto ho trovato nel sito della biblioteca Sala Borsa, provateci voi a mettere fine a questa indecenza. Ritengo che la biografia dell'ex primo cittadino, riferendosi all'ex sindaco del Bono, sia omertosa, nulla si dice della carriera di sindaco e della sua fine vergognosa e alquanto di parte basta vedere la fonte. Allora vado a vedere sul sito, la mail poi termina con scritto, ma siamo a Bologna o nella Romania di Ceaucescu? Lettera firmata. Allora a questo punto io vado sul sito della Sala Borsa e mi accorgo che il curriculum del nostro ex sindaco si ferma al 2008. L'unica cosa è che il curriculum dell'ex sindaco è stato pubblicato a maggio del 2011, quindi c'era tutto il tempo e l'opportunità di poter caricare un curriculum aggiornato con le ultime vicende. Quindi decido di preparare un'interpellanza per chiedere spiegazioni, anche perché sul sito della Sala Borsa è presente una sezione dedicata a tutti i sindaci di Bologna e in questa sezione per ogni sindaco compare una descrizione dettagliata di quando ha iniziato il mandato, quando l'ha terminato, quali erano i suoi assessori e invece nella descrizione del curriculum dell'ex sindaco del Bono non compare nessun riferimento o nessuna spiegazione né in merito alla sua elezione né in merito alle sue dimissioni. L'assessore in questo momento non può rispondere perché non c'è, però prima di venire in aula ho verificato per vedere com'era il sito della Sala Borsa e ho notato che la biografia è stata corretta, è stata aggiornata il 5 ottobre del 2012. Ma fa piacere vedere che nel momento in cui viene fatta una domanda, addirittura prima di ottenere la risposta, venga risolto il potenziale problema equivoco, però è molto curioso il fatto che a maggio 2011, quando venne caricato il curriculum, fosse stato caricato un curriculum incompleto, chiamiamolo così. Sono curiosa di sentire le motivazioni dell'assessore alla cultura Ronchi.